Manovra più flessibile dice la maggioranza, questo modifica in qualche misura il vostro giudizio? Ma io non ho capito ancora questa flessibilità in cosa sta, andremo a vedere, non mi pare una grande trovata quella di dire i tagli restano quelli che sono, vedetevela tra di voi, perché questo ovviamente può scatenare tra le regioni una competizione diciamo tra le regioni più forti e le regioni più povere e mi pare che tutto questo contraddica lo spirito del federalismo come è stato approvato dal Parlamento che è quello di dire ci sono disuguaglianze che vanno piano piano colmate e lo Stato che opera una perequazione tra le diverse situazioni, comunque vedremo, mi pare che però il modo di procedere del governo sia molto approssimativo, grandemente orientato a levarsi le responsabilità e a scaricare sugli altri i compiti più ingrati in questo caso sui regioni e sui comuni, come dice Bersani si dà una pistola in mano ai presidenti regioni e ai sindaci perché sparino loro ai cittadini che con questi tagli verranno privati di moltissimi, moltissimi servizi e quindi di un pezzo importante del loro diritto di cittadinanza. Ah vabbè certo non verranno aumentate le tasse, però lo chiede a una famiglia di reddito medio-basso che perde alcuni servizi da quelli scolastici a quello degli assidini, da quelli dell'assistenza agli anziani ai nuovi costi dei trasporti locali, se questo significa aumentare le tasse oppure comunque levargli risorse e diritti senza dirlo e facendolo fare ai comuni c'è anche un principio di bigliaccheria in questo, non so come dirlo meglio. Come giudica la protesta delle regioni? Secondo lei si può arrivare a un accordo appunto con il governo su una manovra condivisa? Ma guardi innanzitutto è già stata violata la legge, perché con la legge di contabilità pubblica che è stata approvata qualche anno fa, in realtà tutta questa parte doveva seguire un procedimento che prevedeva la concertazione con le regioni, quindi siamo già fuori linea in questo senso. Non mi pare che ci siano grandi novità su questo fronte, salvo quello appunto di dire i soldi non ci sono, arraggiatevi tra di voi. Questo scatenerà ovviamente, secondo me indubitabilmente una competizione tra le regioni. Io temo che da questa vicenda tutte le regioni esceranno più povere, ma quelle più povere saranno ulteriormente danneggiate e penalizzate. E qui non si tratta di un giudizio di merito sulle regioni, si tratta del fatto che con cui ci sono milioni di cittadini che avranno, sentiranno sulla propria pelle e sul proprio reddito, anche se non gli alzano le tasse, è come direi la difficoltà di vivere in una realtà nella quale molti servizi o saranno tagliati o costeranno di più. Questa vertura di Berlusconi come la vedete, come un passo avanti? La vertura di Berlusconi è come mi pare sempre studiata dentro una strategia che ha molto di politico propagandistico e poco di concretezza. Comunque vediamo, io non voglio apparire del tutto ostile, no? Siamo in commissione per questo, anzi io ieri ho proprio lamentato che il Senato stava diventando solo il luogo dell'attesa dei papelli che arrivano da altri luoghi e non il luogo della discussione della ricerca di soluzioni condivise. Quindi se c'è la possibilità di aprire una discussione sulle questioni, fermare stando, la necessità della manovra e anche la sua entità, io posso essere solo che felice. Quando si è fatta la legge sul federalismo fiscale, da una parte si sono introdotti i meccanismi perché di responsabilizzazione dei presidenti di regione in maniera tale che gli amministratori che amministravano meglio potessero essere, tra virgolette, premiati, ma nello stesso tempo si pigliava atto di una situazione di disparità che è tanto evidente che è inutile che io la descriva. Pensate alla Lombardia, pensate alla Calabria, pensate alla Liguria e pensate alla Sicilia. E questa disparità ovviamente va colmata come? Con lo Stato che si fa garante di una perequazione ovviamente sempre più approssimata tra le diverse regioni. Dire invece i soldi sono pochi, vi facciamo i tagli lineari e vedetevela tra di voi, non mi pare diciamo una grande soluzione perché è ovvio che alcune sperequazioni rischiano di aumentare. Ma guardi, questo è stato evidente sin dall'inizio che c'era innanzitutto un malessere profondissimo di tutti i presidenti di regione e di tutti i sindaci. Voglio ricordare che qualche giorno fa in Piazza Navona c'erano sindaci di centrodestra e di centrosinistra e venivano da tutta Italia disperati, non per sé, per i propri cittadini naturalmente. E ovviamente si è aperta anche una partita politica tra i presidenti di regione, ma questo è fin troppo ovvio. È uno dei riflessi, dei modi con cui si manifesta quella difficoltà che c'è dentro la maggioranza anche rispetto a questa manovra che ha condotto per esempio al Senato a presentare da parte della maggioranza più di mille emendamenti. Cioè siamo in una situazione in cui la maggioranza parlamentare è davvero in grave difficoltà. Io mi chiedo fino a quando la leadership di Berlusconi riuscirà a tentare di oscurare tutto questo e fino a quando questo tentativo di oscurare questo significherà sacrifici, danni e ingiustizie ai danni dei cittadini, perché poi questo è il punto di caduta di ogni politica ovviamente.